Amici di Football Is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video sul fantacalcio. Com'è andata il fantacalcio? Com'è andata la giornata del fantacalcio della mitica Via Tasso Fudo Club? Ragazzi, è finita. È finita. È finita. Via Tasso Fudo Club Real Bandirola 1 a 2. La Via Tasso Fudo Club perde lo scontro diretto per il secondo posto e scivola a meno 4. Della Vett ormai non ne parlo neanche più perché è vero il Barcellona ha perso però è sempre a più 8 da noi ci fa ciao 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 con due mani come i teletubbies. E niente, detto questo iniziamo un po' a vedere com'è stato il rendimento delle due squadre. Iniziamo dal Real Bandirola che ha totalizzato 75 punti e mezzo. Di questi 75 punti e mezzo c'è da segnalare l'8 e mezzo a Sirigu più uno per il suo 106esimo clean sheet di questa stagione. Ripeto, 106esimo clean sheet di questa stagione. Fazio 10 per il gol, stesso voto e stesso motivo per Ronaldo. Duvan Zapata invece 7 e mezzo più uno per l'assist. La Vietasso Football Club invece ha totalizzato 66 punti e mezzo. Allora di questi 66 punti e mezzo c'è da segnalare il 5 a Lafonte. Meno uno per il suo abituale gol preso. Sei per Atebur, Koulibaly e Mancini in difesa. Centrocampo 5 Pachetà, mezzo punti in meno per l'ammunizione. 4 e mezzo a che sì, anche lui meno 0,5 sempre per un cartellino giallo. Veretù 1 e mezzo, 1 e mezzo perché ha sbagliato il rigore. E se da una parte ieri sera ero un castoro libidinoso quando ho sbagliato il rigore nella partita contro il mio Sassuolo, dall'altra sono piuttosto incazzato perché ho perso questa giornata del fantacalcio anche per colpa sua. Sarebbe stato meglio che il Sassuolo ieri sera vincesse 2 a 1 e Veretù segnasse il rigore. Poi migliore del centrocampo Lazzari con 6 e mezzo. In attacco Dzeko 6, 10 per Belotti e per Quagliarella che sono andati entrambi in gol. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il riassunto della mia ultima giornata del fantacalcio. Ditemi cosa ne pensate, ditemi se giocate al fantacalcio qual è la vostra squadra e come state andando. Io come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube iscrivervi alla pagina Facebook e lasciare un commento a lasciare un mi piace. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!